Shane, hai pensato a me almeno per un secondo. Che farò quando te ne sarai andata? Non pensi che questo sia ingiusto anche per me? Che c***o, ho già battuto il cam crew una volta! Che cosa dovrei fare, sentiamo? Dovrei combattere ancora? Sopportare di nuovo tutto quanto? Ce la faremo! Lutteremo insieme, noi resisteremo! Voglio che tu faccia di nuovo i trattamenti! E come fai a essere certo che se farò i trattamenti puoi stare un meglio? Non lo sono! Esattamente! Non lo sapremo mai se non ci proviamo. Brian, non lo riesci proprio a capire. Il cancro al seno è arrivato ai polmoni adesso! Si è diffuso, ok? Che certezza abbiamo che guarirò davvero? Io penso che valga la pena provarci. Sapevi che, nonostante le cure, l'aspettativa di vita è dai 5 ai 10 anni? Sarebbero. Dai 5 ai 10 anni insieme a te. Non ci hai pensato. Non ci hai pensato.